Tutto pronto a Catanzaro per la quindicesima edizione del Festival d'Autunno diretto da Antonietta Santa Croce, che quest'anno prevede tante novità. Tra tutte la location sarà infatti la suggestiva terrazza del complesso monumentale del San Giovanni, nel cuore della città, la cornice ideale dei momenti musicali e non solo dei mesi estivi. Ad aprire le danze sarà Arisa il 14 luglio. Di rivitalizzare il centro storico della città di Catanzaro nel momento in cui tradizionalmente è più abbandonato, ai mesi di luglio ed agosto. E da quest'anno infatti il Festival d'Autunno parte proprio dalla stagione estiva, da 14 luglio per proseguire poi fino al 17 novembre. Sono tantissimi eventi disseminati in questi mesi nelle location più importanti della città di Catanzaro, ma soprattutto il nucleo estivo si svolge nella terrazza del San Giovanni. Sono 5 eventi, dal 14 luglio al 10 agosto, con i nomi più importanti del momento. Arisa, Goranbregovic, Ibo Stel, Max Gazze. Tutti unica data in Calabria per riportare proprio sia i turisti, sia i residenti di Catanzaro a rivivere il centro storico anche durante l'estate. Dopo i concerti estivi, il cartellone prevede tra settembre e ottobre, oltre a delle produzioni originali, diverse iniziative legate alla riscoperta dell'identità calabrese, con visite guidate, presentazioni di libri e proiezioni di film. La chiusura del Festival d'Autunno il 17 novembre è affidata al cantautore Vinicio Caposela. Rossella Galati per la CNews24.